Buon lavoro a tutti! Dedichiamo questa settimana al tema dell'intelligenza artificiale e ci concentriamo sulle opportunità. Tanti in questo momento parlano di rischi, ebbene vediamo quali sono gli aspetti positivi legati alla rivoluzione tecnologica in atto. La prima parola chiave della settimana è mille offerte. Sono ben mille le offerte di lavoro legate all'intelligenza artificiale attive su LinkedIn o LinkedIn in Italia. È uno degli aspetti positivi legati appunto alla Iacene, l'epoca dell'intelligenza artificiale. Nasceranno tante nuove professioni, o meglio quelle attuali si arricchiranno. Ci saranno l'IA medico, l'IA fiscalista, l'IA notaio, l'IA commercialista e così via. In sostanza tutti avranno un coach a bordo campo. La seconda parola chiave della settimana è produttività. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale porterà a parità di ore di lavoro a una maggiore produttività stimata nel 70% in Italia, generando un più 18% di PIL, quasi 310 miliardi di euro, quasi il PIL della Lombardia, un quinto del PIL dell'Italia. Lo dice uno studio di Ambrosetti ripreso nel mio libro dal titolo Smart Leadership Canvas, come guidare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale con il cuore e il cervello. La terza e ultima parola chiave della settimana è debito digitale. L'intelligenza artificiale permetterà ai professionisti di risparmiare 5,7 miliardi di ore all'anno. Avranno cioè più tempo da dedicare ad attività ad alto valore aggiunto, consentendoci di diminuire il cosiddetto debito digitale che ci vede oggi ricevere ogni giorno tantissime email e centinaia di chat su Teams. Opportunità dunque, non solo rischi legati all'intelligenza artificiale. è fondamentale che al centro del lavoro ci sia la persona. Buon lavoro a tutti!